buongiorno e benvenuti a tg poker speciale world season poker 2011 avremmo voluto fare questo lancio all'esterno dello terrio per farvi vedere i giocatori che affluivano alle sale ma non è stato possibile perché scoop sta diluviando in mezzo al deserto scrosci d'acqua che peraltro non sono neanche raffrescando un attimo l'ambiente però è impossibile assolutamente stare all'esterno e quindi siamo relegati qua nella zona delle interviste infatti purtroppo la policy dei media è talmente restrittiva per cui possiamo muoverci solamente in ambiti predeterminati e questo è uno degli ambiti di cui appunto vi sto parlando oggi 7 luglio parte il main event di questa 42esima edizione dei mondiali di poker ma non solo ci saranno due tavoli finali quelli del pot limit oma e quelli dall'evento 56 l'evento dal 1500 dove ci sono ancora degli italiani in gioco facciamo un breve riepilogo della situazione che vede questo 7 luglio protagonista indiscusso innanzitutto cominciamo col fatto che l'evento 55 il poker player championship da 50 mila dollari è terminato e ha vinto i quasi 1 milione 800 mila dollari di monte premi Brian Rust runner up Phil Helmut che si deve accontentare di un milione e spiccioli per l'evento 56 invece in no limit holdem da 1500 dollari sono rimasti in gioco 42 giocatori e oggi siamo dauranti fino alla consagrazione del vincitore notizia molto importante per noi azzurri che ci sono ben due italiani ancora dentro e sono Lamberto Collina e Massimo Ricicco purtroppo Andrea Vezzani è uscito ieri però si porta a casa un prize pool non indifferente quasi 3000 dollari per l'evento 57 invece il pot limit oma aelo split ci sono 25 giocatori che oggi si contenderanno il primo la prima piazza il primo conquisterà ben 400 mila dollari che sono tantissimi perché comunque era un evento molto tecnico dovevamo dentro l'azzurro Maurizio Guerra che purtroppo è uscito in 26esima piazza si porta a casa a quasi 13 mila dollari ed è uscito appunto a un passo dalla fine del di questo dei finale perché oggi appunto si andava giocano solamente 25 players e lui è uscito 26esimo e poi ovviamente il main event delle bus hop quindi l'evento 58 oggi il giorno del day 1 a e si giocheranno 5 livelli per un totale di 10 ore di gioco infatti ogni livello dura due ore e ci sarà una pausa cena particolare non indifferente di 90 minuti dalle 18 e 15 in avanti sarà ammessa la registrazione tardiva fino alle 4 e 40 del pomeriggio dopodiché i giochi saranno fatti oggi sappiamo che giocheranno tra gli altri gabriele galblepore e il november 9 filippo cambio è con noi un esponente azzurro che partecipa a questo main event bus hop a questo dei 1 a e matteo bruni taddia ciao matteo ciao a tutti come sta andando questo dei 1 a detto ci sono mi sono appena svegliato non sembrerebbe in realtà un'oretta di ritardo adesso appena cominciato ho giocato un'oretta sono sui 29 mila ma ieri cosa hai fatto per essere svegliato in ritardo oggi non devi fare preparazione andrà a letto presto un torneo defaticante al binios da 180 dollari come è andato primo veramente piccolino torneo amichevole diciamo scusate adesso a prescindere dal fatto piccolino no comunque il binios è lo storico casino dove hanno di fatto visto la luce le bus hop a las vegas tu arrivi prima beh congratulazioni infatti ho fatto il tavolo finale proprio nel tavolo finale delle vecchie bus hop è stata una sensazione strana che se tornevo piccolo prima la 3.500 dollari però la situazione è stata bella poi anche torneo ufficiale quindi molto bello complimenti e congratulazioni senti ma adesso al tavolo invece come ti stai trovando ai se devo essere sincero è un tavolo il livello non esiste fanno questi fanno torneo a 10 mila dollari senza neanche sapere perché non sono professionisti sono sei tipo race 5 per utg infatti sto soffrendo sono fermo in attesa infatti secondo me è una delle cose migliori da fare noi abbiamo incontrato adesso nella pausa anche gabriele gallepore il quale certo guarda non voglio fare l'intervista adesso perché sono un po un po giù perché al tavolo un giocatore che veramente gioca come se insomma è più di uno però in particolare lui si sta scontato sempre con un giocatore che che non sa giocare e che quindi però e poi è aiutato dalla buona sorte di fatto è chiaro io con uno francese ho tributato a 900 perché io ho aperto le 100 con jack jack mi ha chiamato l'asso 3 asso la mano dopo lui riapre il tribetto con l'asso k mi chiamano con 4 e 7 4 e 7 quindi cosa devi fare niente bisogna essere paziente sì sì paziente sono sceso 24.000 poi ho fatto un breffettino speriamo allora noi con questo speriamo di matteo lo salutiamo e ci riaggiorniamo ai prossimi giorni va benissimo ciao a tutti ciao grazie passeggiando per il rio ci siamo imbattuti in un personaggio totalmente ignoto alla comunità pokeristica nazionale ed internazionale sto scherzando ovviamente siamo con francesco un guienne francesco aggressivo un guienne che si aggira qui in attesa di partecipare a questo main event siamo in attesa siamo anche molto agitati perché questa tornella prima volta che lo faccio mi sento un po' molto emozionato però tutto sommato quando siamo lì dopo tutto si sbloccheranno diciamo che secondo me con il tuo cognome già parti avvantaggiato eh sì perché qui in guienne ci sono tanti già io essendo in guienne anch'io diciamo sono vantaggiato qui senti sai già che giorno giocherai? io dovrei giocare il day C diciamo il 9 tra due giorni qualche tattica particolare o utilizzerai la tua solita diciamo aggressività? no diciamo che in questo torneo bisogna usare delle tattiche particolari perché abbiamo 30.000 di stack e livello di due ore perciò i primi livelli volendo si può giocare anche i suiter di connector coppiette speriamo di chiudere qualche scala una doppia coppia o settare un tris e lì massimizziamo poi quando i bui sono alti dobbiamo fare un altro tipo di gioco ascolta una domanda che non ti ho mai fatto ma tu hai un amuleto qualcosa di scaramantico che ti porti dietro se si può dire io c'ho questo a guarda c'ho l'artiglio di tigre che mi porta bene diciamo che contro l'iel contro l'invidia però penso che sta funzionando sì sembrerebbe di sì anche perché Francesco ci ha raccontato che in questi giorni comunque Las Vegas non è stato proprio con le mani in mano di fatto hai diciamo aumentato il bankroll sì diciamo in questi giorni ho vinto quasi 10.000 dollari a cash giocando tre sessioni ogni giorno 4-5 ore mi è andato bene visto che qua gli americani vogliono fare l'aggressivo con me invece io gli ho metto le belle trappolette e quelle quando mi fanno l'in io snappo e giro nazze e quelli escono l'occhio ma come questo fa check e ride ci stiamo divertendo mi fa piacere veramente tanto ti vedo comunque bello carico noi ci incontreremo ancora in questi giorni quindi arrivederci alla prossima alla prossima saluto tutti gli amici da casa vai ciao a presto da Las Vegas per oggi è tutto arrivederci a domani con una nuova edizione del TG Poker il notiziario del poker sportivo a presto a presto a presto a presto